Andiamo a compilare la sezione delle precedenze e andiamo subito al punto 23 per il rientro nella scuola di ex titolarità che è un diritto che il docente ha per 8 anni, si inserisce la provincia di riferimento, poi si sceglie l'istituto in cui si vuole ritornare dopo aver perso la titolarità, dunque si fa la ricerca dell'istituto, si inserisce l'istituto di ex titolarità per avere la precedenza al rientro e una volta selezionato l'istituto si va a selezionare anche il tipo di posto, per esempio il tipo di posto normale, al punto 24 il docente usufrisce la precedenza dei non venenti, al punto 25 usufrisce la precedenza degli emodializzati, il punto 26 la precedenza per l'articolo 21 della G104, riferito proprio a coloro che hanno una disabilità di almeno due terzi e hanno almeno l'articolo 3,1 della legge 104, il punto 27 usufrisce la precedenza per le cure continuative, il punto 28 è l'articolo 33,6 della legge 104, c'è chi è gravemente malato, chi ha una grave disabilità, poi il punto 29 invece è riferito all'assistenza o nella data provincia di titolarità o anche né altra provincia, riferito per l'interprovinciale al figlio e al coniuge e per la provinciale anche al genitore, poi c'è il punto 30 che è riferito ai coniugi dei militari che sono stati trasferiti d'ufficio, il punto 31 è riferito al mandato politico, cioè chi vuole andare dove sta svolgendo il mandato politico, però questa è una precedenza temporanea, poi c'è quella riferita al rientro dei sindacalisti nella provincia dove hanno svolto il ruolo di sindacato, poi il punto 33, il corsi per adulti che ha almeno 3 anni per corsi per adulti, il punto 34 che ha almeno 3 anni nelle scuole ospedaliere e il punto 34 che ha almeno 3 anni nelle scuole carcerarie. Seguiteci nel nostro canale YouTube, ponete domande e vi sarà risposto. Grazie a tutti.